Il primo ottobre riaprono le scuole a Bacipaia, siamo con la dirigente dottoressa Anna Maria Leone dell'Istituto Comprensivo Salvemini. Allora è stata una fatica enorme mettere a punto questa nuova emergenza, io la chiamo seconda emergenza, è d'accordo? La chiamate bene, sì sì. Noi in realtà abbiamo lavorato tutta l'estate perché comunque sono arrivate continuamente delle disposizioni ministeriali alle quali abbiamo dato seguito e comunque le disposizioni molte volte non è che erano in contraddizione, però ci suggerivano qualcosa di diverso da quello che avevamo fatto quindi abbiamo dovuto riprendere quello che abbiamo fatto e modificarlo secondo la normativa che ci veniva imposta. Perché aprire in sicurezza non è semplice, sembra che aprire la scuola è diventata la cosa più complicata ma forse lo è perché comunque è la salute dei nostri bambini e a parte la loro salute ne va anche della salute degli adulti perché a quando si è potuto capire forse loro sono dei portatori insomma che diffondono il virus e quindi dobbiamo stare attenti a insomma seguire tutte le norme il protocollo della sicurezza. Quindi personale anche professori, personale ausiliario tutti pronti? Allora a dire la verità noi abbiamo avuto dal ministero dei fondi che non avevamo, abbiamo avuto dei fondi per il personale covid, quindi abbiamo chiamato altri 5 collaboratori oltre ai 17 che avevamo e che sono già in servizio da qualche giorno, l'abbiamo già chiamati qualche giorno fa, che danno una mano perché come abbiamo potuto capire l'igiene è alla base di tutto perché noi per difenderci tre possibilità insomma tre dispositivi possiamo utilizzare, la mascherina, il lavaggio delle mani e il distanziamento e quindi noi abbiamo concentrato tutte le nostre energie su questo. Quindi i bambini quando arriveranno anche il ministero ci ha fornite le mascherine per tutti i ragazzini e ci ha forniti i fondi per acquistare termoscanner, come vedete ne abbiamo comprato pure un termoscanner per gli adulti. Ai bambini invece preferiamo misurargliela così con il termometro quello la distanza ma quello digitale e le mascherine le abbiamo per tutti, per i docenti, ho provveduto a comprare pure le visiere solo per i docenti dell'infanzia e per i docenti del sostegno perché abbiamo ragionato sulla cosa e ci è sembrato opportuno tutelare di più quella fascia di età innanzitutto perché i bambini essendo più piccoli non capiranno all'inizio subito la regola del distanziamento quindi tenderanno ad avvicinarsi quelli dell'infanzia, a giocare insieme e per questo motivo avendo la disponibilità degli spazi e avendo il comune a dire la verità si è reso disponibile abbiamo tra virgoletto costruito altre dieci aule per l'infanzia quindi ogni classe anche se era solo di venti alunni l'abbiamo sdoppiata in due quindi ogni classe massima è di dieci bambini avranno degli spazi, siamo fortunati perché la scuola ha delle aule molto grandi, la più piccola è di 40 metri e la più grande è di 77 metri quadri quindi abbiamo potuto rispettare quello che ci dettava la normativa di due metri e dieci al ragazzino e quindi i ragazzi avranno il distanziamento che prevede la normativa e non devono indossare la mascherina in classe perché il distanziamento c'è. La indosseranno solo nel momento in cui si alzeranno, andranno in bagno andranno insomma nel corridoio e la indosseranno, posso approfittare per mandare un messaggio ai genitori allora per evitare gli assembramenti ho chiesto al comune per i primi giorni poi se va bene, loro sono disponibili anche a prorogarlo di creare solo per un'ora un'isola pedonale all'ingresso quindi i genitori non entreranno proprio nel cancello abbiamo attivati sei ingressi diversi, questi quattro su questo lato qua altri due laterali e le sezioni dell'infanzia interreranno ognuno per i fatti suoi diciamo così, l'aula aveva una porta antipanica, abbiamo reso quella la porta l'ingresso dell'aula e a questo punto quindi il distanziamento penso che è garantito perché non ci sarà la calca perché gli altri anni, la mattina qua c'era proprio una folla esagerata addirittura all'uscita i bambini mentre non vedevano i genitori il genitore ansioso si accalcava e arrivavano fin qua davanti quindi li accoglieremo davanti ai cancelli dove ci sarà un collaboratore e l'insegnante che gli misureranno la febbre, gli metteranno la mascherina e dopo mantenendo la manina così dal compagno perché sperando che ci riusciamo abbiamo preparato pure dei video devono capire che mai si devono avvicinare la distanza dal compagno e deve essere il braccio così e quindi mi auguro che tutto vada per il meglio è che noi ce l'abbiamo messa tutti i docenti hanno lavorato tutto il mese di agosto sono venuti scaglionati giustamente però sono stati sempre qua per cercare di organizzare nel migliore dei modi Gian Paolo Naimo, il professore che si occupa della sicurezza mister sicurezza lo chiamiamo allora com'è stato questo lavoro? il lavoro è stato lungo perché in tutta l'estate abbiamo cercato di organizzare le classi per quanto riguarda il distanziamento che finché non arrivano i banchi purtroppo dobbiamo cercare di regolarci al meglio e niente, è da tutta l'estate che stiamo lavorando grazie a tutti Autore dei sorrisi